E bella a tutti ragazzi, bentornati in un mio nuovissimo video, in questo video sono con Flavio Buongiorno E stiamo giocando dal telefono purtroppo perchè non vi sto qua a spiegare Ho una copia di Fall Guys fatta abbastanza bene, abbastanza fedele E oggi la proviamo insieme, io non ci gioco da una vita, Flavio ci ha giocato già qualche volta Un po' più di me E vediamo di cercare almeno di vincere Io mi ricordo questo gioco perchè Flavio, che è FON-T-YT, quello che vedete subito dietro di me perchè è scarso E' abbastanza fortunato, anche troppo, quindi vince solo perchè è fortunato E niente, io ho preso Che scarso, cioè già così, partì malissimo Comunque se volete il gioco, si vuole installare il gioco, grazie per il telefono, si chiama StambleGuy Si, non so se c'è anche da Android, non so se c'è da iOS, lì come cacchio si chiama Oh, non lo so, però è un'ottima riportezza, comunque è bello come cacchio Si, ci sta abbastanza, ma te sei riuscito a qualificarti Si, alla fine Si, anch'io Ok, ci sono in tutto 3 mappe, cioè devi fare 3 mappe Ah, beh, si Possono qualificare i sacchi di persone nella seconda 8 e nella terza ovviamente uno è il vincitore E niente Si, si, no, bravo Flavio che spieghi, molto bravo No, comunque si, ci sono più mappe perchè poi deve rimanere solo uno che è il vincitore come FALGUYS Che tra l'altro io FALGUYS non ci ho mai giocato, se mai lo faranno uscire da Xbox lo prenderò e ci giocheremo, cioè almeno io ci giocherò anche da lì Potrei guardarci un video, solo che non, hanno detto che forse questa estate uscirà, però potevano anche muoversi prima comunque, cioè Eh, vabbè Comunque anche qui c'è il passaggio nazionale in questo gioco Si No, io in realtà ce l'ho a pagamento perchè l'ultima volta che avevo giocato l'avevo comprato Ah, ok Vabbè, io ho quello gratuito e ci sono dei premi gratuiti, però ci sono anche quelli a pagamento appunto Che l'ultimo pagamento, mi sembra tipo del livello 100 Puoi sbloccare l'abilità di sbloccare e di dare i pugni alla gente Si, però io anche se poi magari la sbloccherò, non lo userò perchè è abbastanza Sì, perchè non è, ecco perchè quelli con il passaggio gratuito non la possono Si, cioè non è corretta come cosa, che uno ha i vantaggi se compra lì Ok, io mi... Quelli sono temporaneamente player, quindi diciamo che non è molto... Io mi son qualificato, te Anzi, anche Sicuro Sì, grazie Ok Adesso devo vincere io perchè mi sembra il minimo Con la mia fortuna non penso proprio Eh no, ti devi suicidare se rimaniamo io contro di te per il video, quindi Per far vedere cosa succede quando vinci No scherzo, in questa io vinco sempre quanto vuoi Ti ricordi i plan? Non lo so, anch'io ho capito qua la fatica In questa vincevo sempre, era l'unica in cui vincevo Ho notato, eh, mi hanno buttato, cioè non è che mi hanno buttato giù ma mi hanno fatto sbagliare Eh niente, anch'io Oddio io non mi colpio lì Cioè ho perso Non mi colpio lì Eh... Dai ho un po' perso io No, io stavo andando bene, ero primo mi so però Ho preso un po' di banana Ok, vai, 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 vai se sbagliano Eh, no, no Anzi Anch'io Sono secondo Sì, almeno che non carica tu, no? Ho finito? No dai, io ero dietro di te, non ci credo Ma what? Sono finito sotto la mappa, Flavio Eh, bravo No, io sto qua da aspettare che arriva uno qui che lo trollo Ecco è arrivato No ma what? Vabbè E niente, dai ma io... Vabbè Ero lì anch'io A un bagno Questa cosa non è giusta ma... Cioè Ne è incredibile, sono preso Mi si è buggato tutto che non mi esce dal gioco, no? No, no, è normale Riconnessione al gruppo, tu non ci sei più, perfetto Ok raga, adesso siamo alla seconda partita Farò dei tagli tra una partita e l'altra Per non farvi aspettare i caricamenti che non sono lunghissimi Però posso capire che è abbastanza noioso E vediamo un po' di vincere Perchè non lo so Qua è la ripetizione della mappa Quella lì che c'è sui guys normali, ti ricordi? No, io non conosco bene fall guys normali Sono dietro di... Qualche volta l'ho visto da qualche timer E comunque ci sono sì queste scale qua Sono un po' più di te No, stavolta devo vincere io e non accetto che vinci te, Flavio Quanto golo sono... Sono primo Tu stessi... Tu stessi... Ah, io ho preso il martello in faccia Però... Sono ancora... Eh, la giusta... La giusta puliziale che ti metti No, no, ma sono ancora per ImoTami Oh, sei primo veramente? Sì, sì, son primo, son primo Imo è buono? Eh, io ho metà di no Sono bloccato Per il scale, ok? Ok, mi son qualificato per prima Quanto godo Io per te Io per io Adesso aspettiamo questi che ce l'hai fatta Ah, no, io come lo ricordo Ah, no, te ce l'hai fatta Guarda... Adesso sono riuscito Io mi ricordo sta mappa Che è un'infamata Quando tipo... A me capitava di arrivare il primo E uno andava dall'altra parte Così rimanevi mezz'ora lì Arrivavano tutti E non riuscivi più a saltare su Perché... Era sempre fermo al centro Il... L'ultimo... Come si chiama? L'ultimo coso L'Imo non mi ricordo come si chiama Aiutami Flavio Come si chiama il... Come lo possiamo chiamare Il... E quello lì Dove... Per salire Che sale e scendi Dove c'è più peso Tipo si... E vabbè la pedana Bravo, si la pedana E all'ultima pedana Tipo... Mi ricordo tante volte Uno rimane bloccato mezz'ora Tipo sei primo Però c'è un altro Che ti blocca dall'altra parte Poi arrivano tutti E tipo è un'infamata Perché non riusci più a saltare Ah, c'è questa quella di primo Però almeno è la finale No, no, non è la finale Abbiamo fatto un round Ok, me l'ho dimenticato già E' bravo Hai visto Ok Ok Io ho capito Un attacco Un attacco Per questo gioco Mi aveva detto Intanto guarda chi è prima Eh, vabbè siamo tutti No, sono... No, sono caduti Ho parlato Perché ho parlato Eh, però adesso Mi stanno un po' riuscire Ok, però sono uno dei primi Va bene Flavio Che fatto? Ho sentito una cosa tutta rotta Non so che... Un attacco Uno Due Ok, le qualificavano Mi è bravo Io sono... Flavio Si sta rompendo tutta la chiamata Eh, Roberto Io vediamo se ti trovo Eccoti qui Si, ok Mi qualifico vai L'unica cosa Di questo gioco Secondo me Che escono molto spesso Sempre le stesse ma... Cioè nel senso Quelle mappe nuove Che è il zoom Perché non sono... Cioè non proprio continuamente Qualche volta Le mappe nuove Però... Diciamo che Sono sempre le stesse Diciamo Quindi questa cosa E' una bellica cosa Si E beh no Si Quella si Ne aggiungono tante nuove Ecco tipo Questa io non l'ho mai provata Non so cosa... Si questa qua io si l'ho provata Questa qua è bellissima E cosa devi fare? Allora Compaio a te l'altro Soprattutto devi saltare Eh ma se... Hai capito come funziona? Si si Ok Poi i laser Diventano tantini Che vanno sempre più veloci Quindi Quasi se più sono due Devi saltare nel momento Ok Ok, devi fare il perfetto timing Eh Da 1 2 Ok C'è anche l'animazione Si si ho visto Si si ho visto Molto bellino quello Urca Ok Non mi sono salvato Ok Per poi ti devi guardare Ma Si Scusate che viene Oddio Eh vabbè Urca Come ho fatto? Non lo so Ma è bellissima cosa mi piace Si si no mi piace Ma è un po' infame Cioè è un po' È molto Oddio Dai sempre io contro di te Non è possibile Oddio Si mi è da difficile Dai che vinco Non posso perdere due volte contro di te E arrivare secondo Si mi è difficilissimo Si è messo contro L'agente di Mission in fondo Non è da Nel direttore Oh Oh Godo ho vinto io Stavo finendo sui laser Quanto Godo 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 Siamo una vittoria a testa Viene di fare l'ultima partita E poi Vediamo chi è più bravo Chi vince O magari perdiamo tutto il giro Vabbè bravo Flav Ah io però sono stato bravino Dai Dai sei stato bravino Sei arrivato secondo Oh siamo di nuovo Nella partita insieme Ok terza partita Vediamo che va Questa Questa Ok Questa è abbastanza Cioè Ce l'ho giocata più di una volta Era una delle prime C'era già da quando l'hanno installato Un bottero sempre fa Quindi Questa qua è a me Per Per la prima parte Questa qua è No ma io vado sempre sotto Da questa parte qua Perché è più comodo Cioè nel senso il trono Ma io vado Beh è comodo Sei un po' più lento Ad andare sotto Però Ti viene più semplice Ad andare Cioè è più corta Se vai al centro Si no lo so che è più corta Però almeno E niente ho preso Cosa mi Io mi sono già classificato No io sono straultimo No vabbè non sono ultimo Non sono messo tanto bene Ok io sono altro uguale No no Non mi è saltato E vabbè Io sto cadendo con tirazione Mi spingo Sì Mi trovo Io non so se mi qualifico Sì 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 Mi qualifico terzo Quindi Ok Ho rischiato Perché me la son giocata malissimo Ci ho preso tipo 46 volte Il coso lì Sì Anche io Che sto tipo rimbalzando Da una parte all'altra Tipo la palla Eh Eh Guarda Munaldo ha in Intermor Eh Sì Anche te stai guardando lui Munaldo ha Eh Giustamente Il più forte di tutti E Eh E' Dai dobbiamo Adesso voglio vincere io Così due vittorie io E una che è che è molto scala Se non vince a connessione dei due cosa succede? Riveniamo a pareti Eh A quanto pare sì Magari in un prossimo video faremo tipo Se piace Una sfida tipo Per vedere chi è il più bravo Chi fa più vittoria Ma perché questo qua comunque come gioca è anche È molto carino mi piace Sì no Ci può stare Eh vabbè ma me non ha saltato Mi lagga No non mi Vabbè Sono ultimo Io sono primo No io a me non mi ha saltato Eh buona Era questa della finale veramente Cioè No io son bloccato qua in fondo Io non mi classifico Flavio Ma come? Al diritto Non lo so No ma te sei sicuro Cioè sei sicuro terzo No 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 Allora sì Ma è il primo Sì no dico ma dietro di te non c'è quasi nessuno Quindi appena No io non vedo nessuno Sì ma se cado adesso però Ma non mi salta Flavio ti giuro che non mi salta Sì ma che adesso non posso Flavio ti giuro che a me non mi salta Non so se è perché mi laggo Perché ho messo che è più piccolo L'analogico ma È un casino Non ho salito se non è tutta Guarda anche quella parte di un po' a me Non ci faria Io sono tipo Qua No quarto Sì Guarda No 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 Niente Qua al fine non finisce più Aspetta Ok godo 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 Ok E con il cuore mi sembra giusto No non volevo fare il cuore L'ho messo in una casa mentre saltava Che poi in realtà quella lì del cuore non la uso perché è un po' infame Volendo io potrei farti tipo in quella del laser potevo farti perdere con quella Perché praticamente da un abbraccio mentre dai l'abbraccio te non puoi muoverti Ma eh ma tutte le cose infame ci dovete voi col pass Si però io non lo uso quello Cioè potrei usarlo ma non lo uso Io se usassi il mio palletto bello guarda Adesso ho un'idea qua Adesso ti fermo così e così perdevo Ecco la Questa cos'è io non l'ho mai giocato Questa qua è bellissima Ma l'adoro però l'adoro è di più quella dell'auto Quella dell'auto è di più E dove ho vinto io scarsi Ma l'adoro è bellissimo Ecco queste scene che vengono in mezzo Porca non è sì Ok Eh però non ti fai Ok Non sai se arrivi prima Si Corro 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 mi dio Si ma è arda però eh Eh però è molto bella Ahia Non è possibile Sono primo No io non ce l'ho Non arrivo primo sicuro No no come si sale qua no vaffan bagno Andrea mi sa che ho vinto io la sfida No non è possibile Hai le ultime parole? No non dico nessune ultime parole perché posso ancora vincere Ehm chissà Ehm chissà Ma ecco ero anche aspettando due secondi Eh vabbè dai bravo Dai bravo Dai bravo Mi è piaciuto questo video Anche se comunque avrei vinto io Solo che ho avuto un po' di problemi Stavo laggando ovviamente Eh certo E' giusto anche che stavo laggando eh Non è vero No non è vero Ho laggato un po' Un po' del primo Non so non mi saltava Però Anche il premio del passo Vediamo cos'è Incredibile Vabbè spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un bel like Iscrivetevi Ci vediamo al prossimo video Flavio saluta Ciao a tutti E bella a tutti Ciao ragazzi Ciao a tutti